Io dovrei parlare di una cosa seria, però speriamo di un'uscita. Allora, alla trazione che viene applicata durante una pratica specifica dell'extension dei capelli. Analizziamo gli aspetti più comuni in questo fenomeno. Allora, io ho scritto due caratteristiche. Le shock high extension sono state ancorate a un numero insufficiente di capelli, quindi la loro resistenza alla trazione sarà inferiore. Le shock high extension sono state ancorate a capelli trattati da prodotti chimici, mesci, permanenti, tiraggi, eccetera, che ne alterano la struttura molecolare. Bella sta parola, molecolare, però mi andavano a dirlo e l'ho detta. Ma che cos'è la trazione? La trazione è uno degli sforzi meccanici elementari cui può essere soggetto un corpo. Facciamo un esempio. Se prendiamo una corda e applichiamo la sua estremità dei pesi, questi si allungheranno, ma se questi pesi fossero superiori, eserciterebbero una trazione eccessiva e potrebbe quindi la corda la porterebbe alla rottura. Tutto ciò può accadere anche ai capelli se riflettiamo su quanta forza sprigionano quando li spazzoliamo. Consideriamo il braccio come una leva. Una donna riesce a sprigionare fino a 60 kg di trazione. Ma quanta trazione si possono sottoporre le stescio prima che si spezzino? Il punto di rottura da noi misurato per ogni singola ciocca è di 15 kg. Poi manderò un po' più nel dettaglio perché 15 kg dobbiamo contare i capelli, ma nel corso di formazione questo ve lo spiegherò meglio. Questo valore può cambiare sempre a seconda della quantità dei capelli naturali a cui è ancorata la ciocca e l'extension. Il consiglio migliore da dare a una cliente per ammortizzare il più possibile questo fenomeno è quindi spassolare i capelli tutti insieme. Abbiamo raccontato il punto di rottura. È un qualcosa di tecnico proprio per il parrucchiere che è appassionato a estension. Può essere interessante anche per la gente comune, però questo è per voi parrucchieri del gruppo Calori Group Academy. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo alle prossime. Sto studiando, sto studiando moltissimo proprio perché parlando in pubblico devono cambiare per forza queste emozioni. Io cerco di portare avanti questa educazione sull'ai estension. I parrucchieri che portano sul taglio dei capelli, sul colore. A me mi ha appassionato sempre questo modo di lavorare. Adesso vorrei che voi mi postiate qualche vostro lavoro per discuterne insieme nel gruppo Calori Group Academy. Vi aspetto. Ciao. Ciao. Ciao.